Sì, la leggenda o la parte un pochino storica racconta che Sant'Ammaro si è arrivato qui con altri vescovi esuli dal Nord Africa, scacciato da un re vandalo che avevano invaso il Nord Africa e avrebbe evangelizzato un po' gran parte di terra del lavoro insieme ad Arpino, San Canione ed altri. Addirittura a Villa all'Iterno c'è una memoria di Sant'Ammaro dove si racconta che sia avvenuto un prodigio, ma ciò che è importante è che attraverso Sant'Ammaro il Vangelo sia arrivato a Villa all'Iterno e quest'anno nel riscoprire il nostro patrono abbiamo voluto che ci parlassi attraverso tre verbi. Consolare, perché la pandemia ha metto tante vittime anche a Villa all'Iterno, educare come attenzione ai giovani al mondo della scuola e l'ultimo verbo essere comunità, perché la comunità all'Iternese riscoprendo il suo parroco, ritrovando le sue radici può trovare coesione, unità. Io credo che la festa del Santo Patrono può insegnarci che cosa significa camminare insieme e ne abbiamo tanto bisogno dopo questo tempo o durante questo tempo della pandemia e proprio per questo abbiamo scelto questo luogo, perché possano partecipare più persone possibile la Villa Comunale. Pur non avendo eventi per strade e piazze, ma noi vogliamo celebrare domenica sera la Santa Messa con i credenti in Villa all'Iterno per sentirci comunità, per sentirci vicini intorno al grande esempio di Sant'Ammaro. Grazie a tutti.